È stato il nostro sogno per un lungo tempo di fare qualcosa per i figli del mondo. È stato la mia passione e la sua passione. Io amo te, Michael! Dice Cristofo! Ma che non è più me! Ho capito, ho capito, perché abbiamo già detto prima. Siamo noi. Grazie, Michael Ecclson! Michael, vuoi dare la mano di Fabio o Claudio? Claudio Maglioni! Non si chiede l'autora, Michael! Ah, l'autografo! Io ci tenevo a... Approfitterei per ringraziare tutti quelli che... No, calmi, calmi! Just one! Dice Giusto, uno solo, uno solo! Uno solo, fatelo venire, dai! E ha scelto lui! Una sola! Here we have a girl! We have a girl! And a boy! Una ragazza e una ragazza, rappresentante di tutto a Milano! Ed è una persona dolcissima, Jackson! Devo dire, una persona di una semplicità, di una carineria, di una umanità! Io vorrei restare con i vincitori! Di una umanità! Vorrei restare con i vincitori! Meravigliose! Un saluto al grande Luciano Pavarotti! Luciano! Grazie, Luciano! Grazie! Grazie.